Questa sera siamo con Filanzi e Falcioni dell'SS Lazio e del Totre Seste, allora parlateci un po' di questa partita. Allora, ci siamo stati bravi, loro hanno un anno più grande, quindi è più difficile per noi. Non abbiamo giocato bene, però l'importante era vincere, siamo primi nel girone e l'importante tocca questo. Quello che è successo ormai è passato e dobbiamo pensare solo a quello che ci succederà. Quali sono i vostri punti di forza? Sicuramente noi siamo una squadra molto grossa e riusciamo meglio a coprire palla e siamo anche molto croci sulle fasce. Invece noi siamo bravi sui tiri e sul posto. Com'è partecipare al Sarile e quindi incontrarsi con squadre che non si conoscono? Difficile. Bello e competitivo. E come procede questo campionato? Procede bene, come ho detto prima, quello che succede ormai è passato e dobbiamo pensare solo a quello che dovrebbe succedere. Allora, grazie a entrambi ragazzi, un bocca al lupo.